Ladies, welcome to Naked, intanto grazie mille che siete venute per me, vi amo, vi adoro, sono molto emozionata, spero di fare belle figure con il nostro Chris G, con il mio italiano, ecco, ma intanto welcome, thank you for coming. Randy, grazie mille per averci avuto, questo è veramente un onore, poiché che dimostra la nostra amicizia che è così solida da così tanti anni, però per non dire che non abbiamo avuto degli alti e bassi, ma siamo qua oggi insieme. Non vedo l'ora. Non è poi la prima volta che siamo nudi insieme, diciamo. No, no, questo di sicuro no. E innanzitutto complimenti Randy, complimenti per aver deciso di fare questo programma, portare questa consapevolezza qui in Italia, lo trovo una missione veramente ammirabile, Amore, thank you so much. Sai perché ho deciso di fare questa cosa? Perché ho fatto due interviste, una con Luca Casadei, nel suo podcast One More Time, ciao Luca, e anche un'altra bellissima intervista con Silvia Tofenin, per Verissimo, dove mi sono proprio messo a nudo, completamente, e ho parlato della mia depressione, della mia epilepsia, mi conoscete meglio di chiunque altre anima qua, e ho avuto un sacco di messaggi e richieste proprio di continuare questo discorso. Noi che siamo qui, siamo qui da trent'anni in Italia, è quasi un tabù questo discorso, vero? Perché dobbiamo avere questo tabù in Italia? È vero, solitamente ci si cerca a nascondere, se c'è qualcosa che non va, a mettere sopra un tappetto, spazzolare tutto sotto e dire, no, 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 va benissimo tutto, va benissimo tutto, ma sotto magari c'è qualcosa… Perché hanno voglia di fare questa bella figura. Sì, e sull'immagine, c'è molto l'importanza improntata sull'immagine in Italia. È giusto, brava. Parliamo un po' dei luoghi comuni, perché a volte sono quelli che nuociono tantissimo la mentalità. Nuociono? Questa è una parola, big word. Non lo so. Cosa si dice nuociono? Fanno male. Ok, fanno male. Thank you. Volevo parlare di un luogo comune che poi fa parte ormai, dopo trent'anni in Italia, fa parte anche del nostro tessuto, purtroppo, ed è il concetto della bella figura e della brutta figura. È vero. Cioè, è incredibile quanto, quando vivi questa cultura, quanto è importante dare retta e un tappetto rosso alla bella figura. È vero. E fare qualunque cosa per non fare brutta figura. Vabbè, hanno dei buon cappuccini. Allora rimaniamo qua, cerchiamo di lavorarci sempre un pochino. Va bene, dai. Sai che io ho il mio modo di buttarsi questo. Certo, certo, ma questo è, come diceva, la crescita è uno dei più grandi problemi. Perché è brutta figura parlare del stare ma... Allora, innanzitutto, qui in Italia ci si lega parlando di problemi di vittimismo. Sì, è vero. Però non puoi mai venire fuori che è un vero problema di cui hai bisogno di aiuto. Perché sennò è brutta figura. Oh, interessante. Però la cosa interessante, infatti, con il concetto di questo podcast, che sono d'accordissimo con l'altra Chris, che veramente rendi a creare un momento, cioè un appuntamento così, dove le persone veramente possono sprigionare anche ciò che... Un altro big word! Cosa vuol dire? Facciamo uscire queste emozioni che abbiamo dentro di noi. Perché il fatto sta che siamo tutti dei momenti estremamente difficili. Con la consapevolezza, c'è una montagna dietro, una montagna da superare per arrivare a questi momenti di chiarezza. Però non ci si arriva semplicemente da soli e in più non ci si arriva senza faticare a capire certe cose su noi stessi, le cose difficili che dobbiamo guardarci nello specchio e dire, ok, da dove arriva questa cosa? Cosa devo imparare? Chris, oggi, scusami se ti interrompo, ma ho bisogno di entrare e mettermi nudo con voi. Ancora? Yes, honey, ancora. Ancora, 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 ancora. Posso dire che a casa della Randi, comunque, ci si entra e ci si mette a nudi per davvero, perché lei è tutto beauty, quindi casa sua è casa wellness, però ovviamente c'è gli automassaggi, le creme, le maschere. Le cappatoi. Sei veramente allineata, comunque, sei coerentissima. Sì, e tu sei diventata ormai un guru che entriamo anche in merito in questo discorso di cosa stai facendo. Infatti, io, ragazzi, veramente, io vi dico che mie amiche sono tutte wonder women. Wonder women, vi conoscete wonder women? Sono mamme, sono imprenditrici, sono amiche, sono guru, sono… Cioè, veramente, a parte le scherzi, voi non so come fate tutto quello che fate. Allora, siccome c'è grande confusione chi è Chris, chi è l'altro Chris, prima non sono sorella, non credo che il mamma e il papà erano così sceme che dargli sempre lo stesso nome. No, tanto non siete né tutti e due americani. Tu sei Chris G, americana, Chris R, canadese. Allora, comincio con Chris Reichert. She's canadese, origine italiana di adozione. You are a speaker. È un volto televisivo, è un cantante, è un artista eccezionale. Questa, assolutamente sì. Cosa vogliamo cominciare con Chris R? Vorrei veramente entrare e ti faccio una domanda. Ok. Come stai? Veramente non… Abbastanza bene. Veramente. Come ben sai, è un periodo difficile. Sto passando momenti che non avrei mai immaginato, emozioni che sono salite che non avrei mai pensato che potessero davvero… Toptami. Che potessi sentire. Come stai cercando, che stai traversando veramente, come conosco la tua storia e non vogliamo entrare in merito, ma cosa stai facendo per aiutare a traversare questo momento così difficile, oltre a avere la Chris che è venuta a Vicenza da viverti praticamente al fianco, per essere l'amica di cuore, per essere di sostegno. Infatti entreremo in questa amicizia vostra, ma cosa stai facendo per tenere questo equilibrio e essere sempre proprio lì? Ma tenere l'equilibrio sono parole grosse. Comunque… Ok. Credo che quello che sto facendo per la prima volta, in assoluto, è che sto chiedendo aiuto. Brava. Bravissima. Sì, perché avevo tanto orgoglio, tanto forse ego, pensavo di poter superare qualsiasi cosa da sola, ma… A chi stai chiedendo l'aiuto? Alle amiche, alla famiglia, perché arrivi a un certo punto che ti rendi conto a volte che non ce la fai da sola. No. A chi l'ha detto che devi fare da sola? Non bisogna farlo da soli. Infatti. Infatti. Ok, dai, ti lascio respirare un secondo che ti vedo un po' così, che sei un po'… Allora facciamo un respiro. Ok. Ok, adesso bevi un po' di tisana. Brava. Siamo qui. Oggi è una nuova giornata, come dice Audrey Hepburn. Ci penso domani. Esatto. Ci penso domani. Esatto. The sun rises every morning and yesterday was yesterday. Justo. Yesterday was yesterday. Posso fare un commento su queste due frasi? Devi. Ah. Allora, mentre io sono molto d'accordo con la passione di questo momento di parlare in positivo e di ritornare a frasi tipo il sole sorge tutti i giorni. Ok, oddio, aiuto. Penso che possono, a volte, siete pronti a nuocere la situazione perché invitano a storvogliare sopra l'emozione invece di andarci dentro, sentirlo in pieno e processarlo. Ovviamente con l'aiuto di amici, di famiglia, di terapisti si dice in italiano. Non so, sei tu più brava di me. Quindi questa è una cosa che io ho molto a cuore, il non evitare l'emozione, di non darsi sempre il positivismo per evitare il momento difficile. Scusami Chris, se vogliamo entrare in merito a questo, io so che io avevo anche, soffrendo anche di depressione, avevo un po' di paranoica con tutte le medicinali per la mia epilepsia che avevo preso, io entravo, mi aiutavo a questo positivismo perché spesso mi buttavo fin troppo giù. Certo, non sto dicendo assolutamente, dico che va preso semplicemente con le pinze. Ok. Nel senso che comunque molte persone scelgono di guardare sempre in positivo, sempre in positivo, sempre in positivo. Ma non va bene? Perché non va bene? Perché siamo umani, ci sono delle giornate difficilissime, ci sono delle fasi della vita difficilissime, cioè siamo in un mondo adesso dove abbiamo, siamo bersagliati di informazioni, di contenuti, siamo invitati tutti i giorni ad uscire del nostro corpo, uscire dalla nostra mente e arrivare a tutti questi ideali di produttività, di presenza e quindi uno è sempre richiamato fuori di se stessa. Ma a volte bisogna tornarci dentro e invitare tutto quel dolore a trovare un posto caldo, come un bambino che deve piangere. E quindi se tu dici a quel bambino, il sole sorge anche oggi, dopo non è stato ascoltato. Però è da lì che nasce comunque la rabbia che è spinta giù, è da lì che nasce la tristezza che diventa depressione perché sei in effetti premendo giù la tristezza. E qua subentra anche la parola che ho usato prima, sprigionare, perché quelle emozioni devono uscire, perché se rimangono dentro creano questi fossi, questi buchi neri che poi non facilmente li fai uscire. Posso chiederti una cosa? Scusami, ti continuo a interrompere, sono maleducata, lo sai che mi viene della roba. Siamo abituati. Siete abituate, va bene. Prima parlavamo anche di attacchi di panico, che io me stessa, che mi è successo addirittura anche un mese e mezzo fa sulla seggiovia, ho avuto una roba terribile sulle sci, infatti non vado più a sciare, ma parlando proprio dell'attacco di panico, mi hai parlato proprio in questi giorni di questa cosa. Ti va un attimino di parlare dei tuoi attacchi di panico e come in quel momento l'affronti? Allora, mi è successo, ho avuto uno, meno male, nella mia vita, che è successo dieci giorni fa, è una sensazione che mai, infatti, avrei immaginato che potessi sentire, perché io di indole sono una persona iperpositiva, ottimista, vedo la luce in ogni persona. E un po' tu marcio a volte, ogni volta che io voglio stare nel mio brodo e tu sei lì con questo sorriso meraviglioso. No, ma questo sto scherzando. Sono fatta così, è più forte di me di vedere il lato positivo e quindi ho passato tutti questi anni, fino ad arrivare all'età che ho adesso, 51 anni, a avere sempre questo approccio. Grazie, grazie, grazie alle tue cure a volte, naturali. Thanks per lo zucchero, lo zucchero che fa e il burro. Va bene. E quindi ho avuto questo primo momento di sentirmi che i muri mi stavano chiudendo ed ero dentro una gabbia e non c'era via di uscita. E cosa hai fatto in quel momento? C'era il sole che splendeva quel giorno e io non riuscivo a vedere il positivo in niente, in niente e non c'era un'uscita e lì in quel momento ho chiesto aiuto. Ed è stata la mia mamma in Canada a stare con me al telefono per un'ora e mezzo, a farmi fare le respirazioni, a farmi uscire da casa. È una terapista anche tua mamma, no? Lei lavorava nel centro antiviolenza per le donne ed era una psicologa per i bambini e quindi lei prendeva i bambini e li aiutava quando le donne scappavano via. Che meraviglia, ti ha aiutato e hai riuscito a aiutarti a uscire da questo sacco di panico. Sì, mi ha fatto fare una camminata lunga, mi ha fatto respirare lungo, profondo, mi ha fatto guardare tutti i dettagli delle cose, mi ha fatto raccontare come erano le foglie che con il vento si muovevano e ho raccontato tutti questi dettagli, tutte le cose che vedevo e piano piano, piano piano, piano piano vedevo il bello. E questo mi ha fatto uscire e mi ha fatto stringere aperti ancora i muri e dopo un paio di ore sono uscita. Meno male. Però ti scossa, ti scossa a un livello che quasi ti cambia qualcosa nella vita, ti cambia. Io sono completamente diversa da tutti i miei problemi che ho avuto per quello. Quando mi hai detto l'altro giorno, mi hai detto, ah, sai Randy, forse ti capisco ancora di più. Ti ho capito che ai livelli… Alleluia! Cioè, mie amiche non mi capivano in fondo, in fondo. Non che ci tenevo che tu avevi un attacco di panico, voglio precisare questa, ma che sei riuscito a capirmi a quel livello lì. Devo essere onesta, mi ha fatto anche piacere. Non che hai sofferto per arrivarci, ma che eravamo ancora più profondi e vicini di prima. Non so se l'ho detto elegantemente, ma… Perché ho dato valore a quello che hai sentito, o validato, si può dire? Non so. Validato, i tuoi sentimenti, le tue emozioni che li hai avuti e finalmente… That's the right word! Thank you! Che forse in questi anni non mi sentivo validata, la mia depressione, i miei problemi e tutto. Infatti, entreremo in questo. In questo momento, come ti senti? Molto meglio. Molto meglio. Ogni giorno, sempre meglio. E quindi, sì, sì, quindi sono sulla buona strada. Bene, bene. Invece, Chris Grove, Chris G, ho una domanda per te, che parli in questa maniera, con questa grande consapevolezza, sei ormai diventato una mini guru e adesso entreriamo in questo, ma so che hai avuto un'infanzia particolare, anche difficile. Quello che voglio capire io, a che punto nella tua vita hai detto, basta, basta, basta soffrire, adesso voglio cambiare. O è un percorso in continuazione, o è stato qualcosa che hai detto, now I'm going to get better, ready. I don't know. Dimmi un attimino da arrivare, da dove sei arrivata, che conosco molto bene la tua storia, cosa vuoi raccontarci? Ma è una bellissima domanda, a che punto hai detto, basta. Io penso di aver detto, basta, sin dal momento in cui sono stata abbandonata a due anni. Cioè, tutta la mia vita ho detto, basta. Sei stato abbandonato da chi? Dalla mia mamma. Poi anche quello ha tutte le sue vicissitudini, perché non si capisce se sono stata veramente abbandonata o che è stato il mio papà a mandarla via. Quello magari è la base di una trauma non indifferente. Certo. Ma poi entro i dodici anni avrò vissuto in, non sto scherzando, 200 case diverse da piccola. Dove era tuo padre quando hai abbandonato la madre? Dove era lui? Era con me, ero da sola con lui. Ah ok, eravate sempre in giro come un po' di vagabonde? No, no, non era una situazione vagabonda. Allora, ogni tanto potevo vedere la mia mamma, c'erano molti cambiamenti di casa, diciamo che c'era pochissimo sicurezza. Esatto. Però torniamo alla tua domanda. E infatti è questa che volevo capire. Come sei diventata la donna che sei così, che conosco da dove arrivi? Allora, come dicevo, sicuramente ho detto che voglio che questa sensazione finisse qui e ad ora e quindi ho iniziato sin da molto piccola a farmi tante domande. Diciamo che la mia vita non è diventata più facile. Sono venuta in Italia e penso che comunque il calore di questo paese mi abbia dato comunque delle radici e un senso di appartenenza di cui avevo bisogno per iniziare veramente a guarire. L'Italia ti aiuta a guarire, secondo te? Sicuramente, sicuramente perché c'è molto incontenimento. Ce ne sono delle cose anche molto negative per una crescita e una salute mentale, sinceramente. Ok, ma questo è anche una bella sorpresa per voi oggi. Però voglio rispondere alla tua domanda. A che punto hai detto basta? Penso che noi quando stiamo male diciamo tutti quanti basta. Non è vero perché io a volte soffrivo veramente e non dicevo basta per tanti 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 anni. Ah sì? No, no, honey, no, no. A volte è più comodo di stare male dentro la tua pelle invece di affrontare e aiutarci. Ah, ok. Te lo dico da me stessa. Ma torniamo al tuo punto. A questo punto. Il punto è che quello che ho dovuto imparare è quando ho accettato questo. La mia vita veramente ha iniziato a prendere volo. Quando? Quando ho accettato che non c'è un momento che va tutto bene. No. Cioè che noi stiamo facendo una vita che è un percorso e all'interno di questo percorso man mano che diventiamo consapevole, come diceva la Chris, alle nostre ombre. Consapevole quali sono, come dici tu, i nostri meccanismi che ci tengono lontano da noi stessi. Quando accettiamo che ci saranno delle notti che ci svegliamo, ci saranno delle giornate. Io ogni sera che mi sveglio, dopo una certa età capita questa. Ok. Ci saranno delle giornate piene di emozioni fra virgolette negative. Dobbiamo imparare a gestire e convivere bene con la rabbia che è naturalissimo, con la tristezza che è naturalissimo. Se guardiamo un bambino di cinque anni, metti, o anche di due anni, un bambino di cinque anni in un momento è felicissimo con questo gioco. Poi si rompe, poi piange, poi è arrabbiato, poi è rifelice, poi piange di nuovo. Stai parlando di me? No. Quello che voglio dire è che accolto questa gamma di emozioni, quel bambino sta bene. Certo. Nessuno dice, oh che pazzo, dice, ah è un bambino, ma in realtà io dico, ah sta vivendo la sua emozione come un cazzo di umano. Sì, amore, ma magari c'è anche di bambini pieni di emozioni che non sanno gestire. No, io sto parlando dei bambini, sto dicendo qual è la naturalezza nell'essere umano. Certo, no, 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 volevo solo precisare questo concetto. Non è fare bella figura tutte le volte ed essere sempre contenti. No. La naturalezza di essere umani è di accettare che noi stiamo facendo parte di un percorso. All'interno di questo percorso ci sono degli emozioni. Apprendiamo come accoglierli, non gestirli. Bravo, bravo. Thank you, darling. Siccome questa puntata è dedicata all'amicizia, allora abbiamo qui un'amicizia veramente profonda, ma voglio parlare di voi due. Raccontami come ci siete veramente conosciute. E' il momento in cui hai detto, io sono innamorato di lei, a mia amica, a mia amica di pelle, a mia amica dell'anima, a mia amica di tutto. E poi quando avete deciso, oh, facciamo questo, siamo belli, simpatici, ci proviamo, ci buttiamo. Cioè, voglio capire un attimino della vostra bocca. So la storia, ma voi no. Allora, chi comincia? Raccontami quando ci siete, tra virgolette, innamorati uno all'altro. E c'era questo supporto là, perché vostra storia è stupenda. E voglio che prendi questo momento da raccontarci. Io ti posso dire che io mi sono innamorata della Chris appena l'ho conosciuta. Ah sì? Non ci ho voluto tempo. Appena l'ho conosciuto, dentro di me, I was like, oh, spero che puoi essere la mia migliore amica. Voglio stare sempre vicina a questo. Era tutta la sua positività, tutta la sua, cos'era? No, sai che lo conoscevo poco, ma appena conosciuto c'era un feeling, una rilassatezza, un riconoscimento. Ma dove eravate? Come ci siete conosciute? A Rezzo, penso. Allora, dove eravate? Innanzitutto eravamo a Bologna. Vivevamo a Bologna e facevamo le modelle, le indossatrici, anche le modelle di stampa. Insomma, e quindi è stata questa sfilata in particolare che era giù sotto Ancona e quindi niente, facevamo questa sfilata e sul ritorno che eravamo in macchina tornando a Bologna, che facevamo sempre questo carpooling con le altre modelle. Allora eravamo in macchina insieme per, non so, 4-5 ore e lì c'è stata la scintilla, qualcosa di pazzesca perché io non me lo scorderò mai per la vita. Quanto mi sono sentita che ero tornata a casa, che c'era un pezzo di casa in macchina con me quella sera, che Chris rispecchiava me in tutti questi modi. Sai quella sensazione quando torni a casa dopo tanto tempo e dici, no, sono a casa, vabbè. Allora quella sensazione di sicurezza, di essere capita, cioè quando sei capita senza dover spiegare chi sei, c'era così con lei, che ci siamo capiti. E quando avete deciso che volete provare a fare questa cosa, la storia di MTV, come siete detto, non cercavano voi, voi che avete detto, noi vogliamo questo, avete visualizzato questo successo, questa cosa, è questa che puoi fare tutto nella vita. Ma lo sai che ho chiesto alla Chris solo l'altro giorno, come mi era venuto in mente? Perché è stata lei, eravamo a cena, a bere della rezzina greca, perché avevamo proprio due lire all'epoca, quindi tutto abbastanza low cost. E lei mi ha detto, guarda che stanno facendo le prove per MTV Italia perché non la facciamo insieme. Sei stata a te? Sì, sì, non è stata lei, ma io solo, vai conto, forse questa settimana, la settimana scorsa, gli ho detto, ma scusa, ma come sei venuta a sapere che facevano i casting per MTV? E se lei che cosa ha risposto? Sulla televisione, mai immaginato. Noi abbiamo raccontato questa storia da anni, no? Che eravamo lì, io ho visto questa cosa in TV che cercavano in nuovi volti e quindi me lo sono immaginato, perché io volevo essere sempre giornalista per Rolling Stone Magazine, per essere vicino ai musicisti. È vero che sono anche dei musicisti, non ho anche detto che sono pure musicisti, sono cantante, sono mamma, sono imprenditrice, sono guru. Ragazzi, io non riesco a stare indietro tutte le loro, quelle che fanno. Sono Wonder Woman. Sono cresciuto con il padre cantautore folk canadese, quindi avevo sempre la musica, le chitarre in casa, le Gibson, sempre, no? E quindi il mio sogno era di essere circondata dai musicisti, dalla musica, nella carriera. E quindi ho visto che cercavano nuovi volti per MTV e ho immaginato, wow, quanto sarebbe bello lavorare con i musicisti. Non ho pensato che era TV e ho pensato di… Era più radio, era più musica. Più musica, più giornalismo, più essere a contatto con i musicisti. E quindi volevo proporre me stessa per questa cosa, ma più che ci pensavo, mi sono reso conto che io e Chris eravamo migliori amiche, inseparabili. Lo stesso senso del… Tutti due bionde all'epoca. Tutti due bionde, stesso senso dell'umorismo. Eravamo bilingue, tutti due straniere con lo stesso accento. E quindi ho detto, no, cosa mi fa fare questa esperienza da sola? Io voglio assolutamente proporlo alla mia migliore amica e così è stato. Quindi ho invitato lei fuori al ristorante greco, perché lo amo quel cibo lì, no? E niente, l'ho proposto, lei è impazzita e abbiamo iniziato a fare un nostro demo, nostro video demo. Direi che è andata molto bene. Io amo precisare che quando siamo andate a fare le prove, ci hanno chiesto chi va per prima. E noi abbiamo detto, no, no, siamo venuti qui a fare insieme. E loro tipo, no, no, non abbiamo la cenepresa messa bene per due persone, dovete fare uno o l'altro. Ma noi avevamo un patto di amicizia. Sì, certo. E le abbiamo guardate in pace dopo aver fatto tre ore di viaggio, spese tutti i soldi per fare la produzione del demo in VHS, anzi beta, tipo. Eh sì, beta, madonna. Amore, stai facendo vedere la tua vecchiaia, ma va bene, dai, andiamo avanti. Io sono molto felice della mia età e della mia esperienza. Io no. Comunque, ci hanno detto di no. Ci hanno detto di no? Ci hanno detto di no. Perché? Perché voleva solo uno? Sì. E noi abbiamo aspettato, aspettato, aspettato. Tutti quanti sono andati avanti a noi. E posso dire, tutti quanti erano delle vere fighe. Delle vere persone rock and roll. Noi eravamo due ragazzi dalla campagna, io dall'indiana, lei dalla… Ma che stai dicendo? Ma stai dita, ragazzi, ti prego, abbiamo anche la produzione qua. Eravamo provinciali. No, ma alla fine… Non erano cool e voi due no, non ci credo. No, ma nel senso che… Noi siamo cool nell'anima, questo sì, ma non eravamo… No, no, erano belle ragazze. Eravamo belle, ma non eravamo… No, no, era molto competizione. Le ragazze lì erano davvero fighe. La cosa è che non era facile. È quello che vuole dire la gente. Vabbè, intanto stiamo andando… Ok, allora, ragazzi… Alla fine comunque hanno detto, va bene, ci avete rotto la cosiddetta. Ecco, allora fattelo insieme. Perché abbiamo detto o insieme o niente. E abbiamo detto, allora andiamo via. E alla fine… Alla fine ci hanno fatto fare il provino insieme. Hanno cambiato tutto lo studio per prendere due persone nello stesso studio. E quando ci hanno preso, abbiamo fatto diversi casting, ma quando ci hanno preso è stata la prima volta che c'era una conduzione su MTV con due persone che interagivano tra di loro a presentare programmi di classifica. Quindi siamo… Allora bravi. Siamo stati pionieri in quel mondo. Pioneers. How do you say that in Italian? Pionieri. Io non crederò che abbrirò mai questa parola. Allora, continuiamo questo discorso proprio per il vostro percorso di amicizia. In questi anni, perché sai siete amiche da 30 anni, non mi devi dire che siete sempre perfetti, non c'era mai una litigata, l'allontanamento, di irritare… Cioè, spiegami un attimino il vostro percorso e il momento in cui ci siete mai proprio allontanati, in mandato e senti, vai affanculo, scusa la volgarità o no? Sì, ci sono stati momenti belli tosti, litigate, mi ricordo quella litigata vicino agli studi di MTV, in quel bar dove andavamo a mangiare a pranzo. Solo quando eravate piccole, cioè in questi anni? Anche in radio, anche quando abbiamo fatto radio, ci sono state un paio di litigate belle toste anche lì. Sì, ma non ci siamo… E poi ci siamo anche allontanati in questo periodo, in quest'ultimo, ci siamo ritrovati adesso da poco. Ma non per un litigio, semplicemente, no, 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 solo per una questione di distanza e per aver interpreso tra diverse… Noi sappiamo perché, ma non lo diciamo, giusto? Ma non è tutto quello, eravamo concentrate su diverse cose, nuove… Tutte due mamme… Sì, sì, ma mai… ma sapevi sempre che se alzavi la telefona, il telefono, che c'era uno all'altro, erano… Io sì, io sì, cioè anche nelle più grandi litigi io non ho mai avuto una paura di perdere la nostra amicizia per sempre. Continuo con te, Chris, perché per me ho bisogno che tu ti definisci una Consciousness Manager, un Energy Healer e una Guida. Mi spieghi anche cos'è la Consciousness Foundation e cos'è questa cosa che fai, che mia amica è diventata una spiritual healer guru, non ho ancora capito esattamente cosa fa, ho bisogno che lei in prima persona me lo spieghi. Poi voglio parlare di vostro nuovo progetto insieme. Sì, allora, definirmi è… nel senso perché mi chiedono di definirmi, allora mi do queste… Non lo so, mi ha scritto Paola, la produttrice qua, che allora le piaceva molto questa domanda, allora sto facendo una brava. Colpa sua, non colpa mia. Le chiamano Life Coach, per esempio, forse, per semplificarlo. Sì. E aiuto le persone a ritrovare un equilibrio e lavoro con un sistema, con un nostro complesso che è fatto dal nostro corpo, dove abbiamo Issues in our Tissues. Issues in our Tissues, che è Rhymes in English, è come lo definiamo questo in italiano. Che abbiamo comunque le emozioni che sono anche bloccate nel nostro corpo, abbiamo un sistema nervoso che può essere troppo in alerta o troppo chiuso e abbiamo il campo energetico che può essere pieno o non pieno di energie delle altre persone. Quindi io lavoro con questo complesso, il corpo, il sistema nervoso e il campo energetico, aiutando le persone a trovare un equilibrio e dandogli, come dire, tools, attrezzi, nozioni, pratiche che possono aiutarli a sentirsi più coerenti, più sicuri, in modo di fare ciò di cui stiamo parlando, sentire le proprie emozioni, in modo di sentirsi… Brava, darling. Sì, più potenti, ma anche più leggeri. Chris, darling, allora, dimmi di vostro nuovo podcast che io ho ascoltato, che l'adoro, si chiama Music Mirrors. Me lo spieghi, per favore, questo nuovo podcast che è veramente bello. Oh, grazie, Andy. No, ma mi sto veramente divertendo ascoltando le puntate. Non so, è veramente bello, mi piace, dimmi tu. Guarda, ci siamo evolute dalla nostra esperienza in televisione, in radio, con la consapevolezza che abbiamo acquisito in questi anni, a sempre cercare noi stessi, cercare di fare questo self-development, di acquisire una profondità di vita, no? E quindi siamo stati proposti queste opportunità, veramente di mettere in un podcast tutto ciò che abbiamo vissuto e abbiamo imparato. E quindi si chiama Music Mirrors, perché quello che facciamo è che prendiamo la musica pop di oggi, analizziamo i testi, troviamo dei temi ricorrenti che sono nella società di oggi, che sono molto importanti, di cui si parla molto, e facciamo un po' uno specchio al nostro anima, per poter poi dare un pezzo di noi anche nell'analisi di questi testi all'interno del podcast. E poi alla fine non solo guardiamo tipo un Beyoncé o Taylor Swift e guardiamo... Entriamo nell'anima loro. Entriamo perché ovviamente abbiamo i nostri pensieri, i nostri emozioni che possiamo aggiungere per dare più valore a queste analisi, a queste descrizioni della musica pop di oggi. E siamo veramente fiere di quello che stiamo facendo. Io sono fiero di voi perché mi piace di brutto, perché intanto non è lunghissimo, forse come i miei, magari le gente dicono lo spegniamo tra poco, ma perché stiamo chiacchierando come se fosse siamo nel mio salotto, mi stanno guardando un po' tutti che dobbiamo asciugarsi, Chris, darling, hai qualcosa da aggiungere per Music Mirrors? No, la Chris è diventata talmente brava a spiegare Music Mirrors. Cioè io tutte le volte che l'ascolto, I'm like, wow, stiamo facendo una roba bighissima. È vero. No, ma non lo dico perché mi è mica veramente piacevole ascoltartelo, giusto? Ecco, l'ho detto bene. Sì, ma state andando, like, il mio italiano è veramente cascato, il vostro si è alzato. Guys, allora intanto non abbiamo ancora finito, ma è un momento che è una bella sorpresa per voi. Voi siete mamme, tu hai Sofia 15 anni. Ragazza stupenda, meravigliosa. Tu Dylan, madonna, mi ricordo che sembra ieri, che ero lì in ospedale quando è nata 10 anni fa. E mi hai fatto il massaggio alle gambe. Sì, ho fatto il massaggio alle gambe, sì, con la coccola candle, Randy's Beauty Secrets. Ho cercato di fare una mini spa nell'ospedale pubblico di Milano. Era da vedere, ragazzi. Ok. E oggi abbiamo Cristina Migliorero. L'ho detto giusto? Spero bene. Che lei è un volontario che arriva da Progetto ITICA, che lei fa una cosa meravigliosa nelle scuole. Ma io, invece di fare brutte figure, preferisco invitarla a stare qua con noi. non voglio che voi andate da nessuna parte, chiacchieriamo un attimino con Cristina. Cristina ci spiegherà questo programma meraviglioso in tutta l'Italia che esiste nella scuola, che ho bisogno che voi fate lei qualche domanda. Ah, bellissimo. Perché voi siete mamme. Ok? Noi siamo mamme. Lei viene a stare in grembo alla mamma. Esatto, adesso arriva Vieni Gioia. Vieni, 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 vieni. Intanto, welcome. Cristina, grazie mille veramente per le tue disponibilità. Cristina è un volontario di Progetto ITICA da 2014 che fa un programma nelle scuole meravigliose che sono, infatti, girls, Cristina è qua anche per voi se volete anche proporla una domanda dopo. Cristina, gentilmente, mi spieghi esattamente cosa fai da 2000. Quando è cominciato questo percorso nelle scuole e tu come sei entrata in merito? Io sono, appunto, come dicevi, una volontaria di Progetto ITICA e mi occupo, appunto, di questo progetto che è un progetto di prevenzione per le scuole. È nato agli inizi del 2000. Che nessuno parlava proprio delle salute mentale. Nessuno era difficilissimo. Anzi, che è tabù. Immagino che era difficile questo percorso. È bellissimo entrare nelle scuole perché le scuole avevano quasi paura che noi parlassimo di questo argomento ai ragazzi. Paura di che cosa? Paura dell'emulazione, magari, di far sorgere nei ragazzi il dubbio di avere un problema, magari anche in assenza di un problema. Certo. Paura di affrontare un tema che era difficile non solo per i ragazzi, ma soprattutto per gli adulti. E quindi le cose fortunatamente oggi stanno cambiando. Di fatti siamo qui a parlarne e a chiacchierare. E siete presenti in quante scuole in Italia? Allora, noi con la nostra associazione che è nata a Milano, appunto, alla fine degli anni 90, ora siamo presenti in 17 città in tutta Italia. Per cui abbiamo 17 sedi da nord a sud. E quindi il progetto scuola è presente in tutte le città. Quindi è diventato un progetto nazionale. L'anno scorso, nello scorso anno scolastico, abbiamo raggiunto più di 9.000 ragazzi. Cosa si fa in questa? Io voglio capire. Mio figlio va alla scuola. Parliamo delle salute mentale, questa prevenzione. Cosa succede esattamente? Cosa imparano? Cosa si spiega? Succede che noi volontari del progetto ITAC andiamo con uno psichiatra. Ok. Perché non un psicologo? Infatti abbiamo anche detto prima. La scelta di andare con lo psichiatra è dovuta al fatto che lo stigma è molto forte, non soltanto nei confronti di chi soffre di un disturbo mentale e dei temi relativi alla salute mentale, delle malattie mentali, ma è molto forte anche nei confronti della figura dello psichiatra. Oggi lo psicologo è più sboganato, diciamo. Anche nelle scuole spesso c'è uno sportello psicologico, sia nelle scuole superiori, ma anche nelle scuole medie. Mentre l'idea di andare da uno psichiatra fa ancora molta paura, non soltanto ai ragazzi, ma anche noi adulti. Perché… Io invece americana, io lo vedo come un sollievo che qualcuno mi può aiutare a capire, perché è stata, mi serviva sia la psichiatra, anche la psicologa. Eh, lo so, ma qui siamo in Italia. Lo so, infatti io sono qui a rompervi, così dobbiamo parlare, assolutamente. E grazie a voi. No, di fatti il nostro impegno è proprio questo, di far capire di quanto sia importante chiedere aiuto. E di fatti mi ha fatto molto piacere ascoltarvi, perché avete più volte espresso questo concetto dell'importanza di chiedere aiuto a tutti i livelli, agli amici, alla famiglia, ma anche ai professionisti quando è necessario. Chiedere aiuto a uno psichiatra ancora fa pensare che sono pazzo, non ho speranza, sono molto grave, mentre sappiamo benissimo che in alcuni casi, soprattutto quando è necessario anche l'utilizzo dei farmaci, l'unico medico in grado di poterci aiutare è uno psichiatra. Affrontando questo discorso, anche se non sono nella scuola, lo dico sempre per me stessa, perché anche io non ho bisogno, non ho bisogno, mi serve solo la psicologia, non ho avuto abbastanza l'amore, tutto questo roba. C'era un periodo dove avevo bisogno della medicina, mi ha aiutato veramente tanto. Mi ha aiutato per quello, io ero al contrario, tutto zen, tutto respirazione, tutto quanto, ma c'erano dei momenti nella mia vita dove avevo proprio bisogno della psichiatra. Questo è un messaggio importante che cerchiamo di portare ai ragazzi, affrontiamo anche questo tema con loro. Mi dicevi che sei nella scuola superiore. Scuola superiore. Attualmente abbiamo un progetto appunto nelle scuole superiori. Non escludiamo di pensare ad un progetto anche per le scuole medie. Ci hanno chiesto anche degli interventi all'università, perché non dimentichiamoci che anche i ragazzi… È pesantissima adesso quella che sta succedendo in Italia sulla salute mentale. Dobbiamo veramente parlare molto di più. Certo. E quindi niente, ci muoviamo un po' su tutti i fronti. Posso fare… Oh, scusami. No, no, assolutamente. Dimmi, Gioia, dimmi, dimmi. Posso fare una domanda? Allora, innanzitutto… Questo è Chris Riker che ha il figlio Dylan che ha dieci anni. Ecco. Allora, innanzitutto volevo dire che questo è veramente una cosa meravigliosa che state facendo, perché… Ma lo stanno facendo da 25 anni ormai? Da 25 anni, sì. Ma la cosa è che io ci penso… Spesso a quanti traume subiscono poi i bimbi nelle fasi della crescita e che se lo portano quando diventano bimbi adulti e che poi sono sotto sotto questo ricorrente di traume e che poi fanno parte del loro carattere. Cioè se lo portano dietro come un bagaglio di brutta esperienza. E quanto potrebbe veramente aiutare se avessero chi li guida in questa maniera? Quindi quante cose potrebbero superare nella vita per dare a loro l'opportunità di veramente lasciare questo bagaglio? Qual è la tua domanda? La mia domanda è questa. Allora, queste problematiche sono per questi traumi tipo della separazione di famiglie e cose del genere oppure sono cose più, diciamo, profonde su proprio uno squilibrio magari del rilascio delle sostanze chimiche nel cervello? Cioè quali problematiche sono le più ricorrenti in quello che fate? Allora, noi incontriamo appunto i ragazzi, non andiamo alla ricerca dei casi per cui è proprio un progetto di prevenzione però naturalmente incontrandoli parliamo con loro e scopriamo tante cose. I ragazzi oggi che vengono definiti spesso fragili perché sappiamo che c'è sempre più richiesta d'aiuto per diverse situazioni prima citavi gli attacchi di panico ecco, gli attacchi di panico sono tra i disturbi più diffusi tra i ragazzi veramente ogni volta che incontriamo queste classi di ragazzi troviamo alcuni che ci raccontano anche di soffrire di attacchi di panico e ad esempio l'attacco di panico è proprio una di quelle manifestazioni per la quale un intervento immediato veramente risolve il problema velocemente cioè l'avere il giusto supporto naturalmente da parte dei professionisti ti aiuta veramente a superare questa cosa velocemente il lasciare passare il tempo e aspettare che passi ti crea una situazione che poi diventa molto più difficile di quella che si viene chiamata di evitamento adesso io non sono un medico però furia di ascoltare gli psichiatri nelle scuole infatti precisiamo questo, Cristina è un volontario ma non è un medico no, assolutamente però si crea questa situazione in cui veramente eviti tantissime situazioni nella tua vita per la paura che ti possa ricapitare ecco, noi diciamo che semplicemente ai ragazzi con l'aiuto appunto di un professionista per cui diamo anche delle informazioni un po' più tecniche su quelle che sono appunto le patologie loro vanno nella high school, Chris, comunque Dylan è ancora piccino magari chiedevo no, no, magari dopo chiedevo anche a Chris Grove anche di proporre a lei qualche domanda perché sono molto curiosa sai che sono curiosa di quello che Cristina aveva detto all'inizio che non volevano che loro andassero nella scuola per paura dell'emulazione questo vi è capitato mai? sì, sì, sì cosa vuol dire? no, non è mai capitato non è mai capitato, anzi che avevano paura che se parlano di un problema mentale che poi tutti i ragazzi dicono ah ce l'ho io, ce l'ho io ah ecco, certo, certo dici che è questa? sì, sì, no, la paura è anche quella, no? però è infondata dovuta alla disinformazione no, ma assolutamente anche perché noi non avete mai avuto questo problema no, ma anche perché noi nel nostro intervento parliamo veramente di tutto cioè partiamo da quanto è importante aver cura della propria salute mentale un altro fattore importantissimo sono appunto i fattori che influenzano la nostra salute mentale sui quali c'è veramente un'ignoranza totale ma non solo dai ragazzi hai detto la parola giusto siamo ignoranti tutti di tante cose certo ma quella che mi dà molto fastidio io sto parlando direttamente a te a voi a tutti parliamo respiriamo parliamo non dobbiamo avere paura non c'è parliamo c'è troppo ignoranza sul salute mentale e dobbiamo assolutamente parlare tutti intanto grazie Randy grazie grazie comunque Cristina allora se uno non sta bene si sente male oltre la scuola volevo anche condividere e questo è solo una bricciola ragazzi vi invito comunque tutti ad andare a progetto itica punto com giusto? ho detto bene Lorenzo? punto org no ho detto ho sbagliato punto org progetto itica punto org per tutte le informazioni per tutti i programmi per tutte le cose e poi abbiamo anche un numero verde qual è? 800 274 274 e se uno chiama questa linea di ascolta cos'è? cosa troviamo? troviamo sempre noi volontari volontari formati non mai abbastanza giusto? un appello mio noi volontari che siamo lì per un ascolto empatico perché tante volte chi soffre di un disturbo di questo tipo soffre anche di tanto isolamento cioè se uno sta veramente male mi raccomando di chiamare l'ambulanza prima di tutto sicuramente se uno si sente perché io a volte questa linea guida è meravigliosa linea di ascolto fantastica io ho avuto dei momenti che non mi bastava beh naturalmente no ma lo sappiamo benissimo difatti noi non vogliamo sostituirci sicuramente ai professionisti della salute mentale che rimangono una linea di ascolto meravigliosa che la persona sa proprio bisogno di essere ascoltata le persone che hanno voglia anche di raccontare la loro storia e magari non ce la fanno a raccontarla a qualcuno che conoscono a volte forse è più facile anche raccontare a qualcuno che non conosci ma non sempre è sempre infatti io chiacchiero con i tassisti forse fanno un po' troppo ma ecco e quindi la nostra linea d'ascolto lì pronta ad accogliere le chiamate appunto di chi vuole parlare anche solo parlare e non è poco e anche però per dare delle informazioni anche pratiche perché magari ci sono situazioni in cui io voglio chiedere aiuto ma non so a chi rivolgermi ed essendo una linea è una linea nazionale per cui abbiamo la possibilità almeno di dare quelle che possono essere le strutture sul territorio che ci possono aiutare Sì voglio ma semplicemente la facilità con la quale i ragazzi possono avere accesso a questo numero sapere che esiste non solo il numero per i ragazzi il numero esiste per tutti è una linea d'ascolto aperta facciamo il numero 800 274 274 274 ok e non c'è un'età chiunque è età chiunque che sta male può fare questo telefonare e avere un aiuto Cristina c'è qualcosa altro che purtroppo non abbiamo tanto tempo potrei stare qua chiacchierare ma ho usato tutto il tempo per chiacchierare con le amiche dimmi te altri punti importanti che non voglio dimenticare no la cosa importante è come dicevamo chiedere aiuto è quello che noi diciamo ai ragazzi soprattutto ai ragazzi voglio dire che chiedere aiuto non è assolutamente un segno di debolezza ma anzi è una grande dimostrazione di coraggio e ai ragazzi oggi che stanno chiedendo aiuto brava brava noi ti facciamo un applauso a questa che questo è un messaggio meraviglioso dobbiamo insegnare tutti oggi che chiedere di aiuto siamo coraggiosi coraggiosi non dobbiamo avergognarsi soprattutto per i ragazzi ci vogliono genitori che siano pronti poi ad ascoltare che voi avete anche in un'altra puntata faremo anche family to family parleremo anche di tante cose in queste trasmissioni di progetti itica abbiamo anche un po' di altre associazioni che ci aiuteranno anche intanto Cristina thank you davvero grazie a voi io spero di incontrarti un'altra volta magari anche con mie amiche che possiamo anche aiutarti aiutare gli altri tanto thank you davvero grazie grazie a voi wow ladies grazie davvero questo questo speaking con Cristina nella scuola veramente interessante sai mi rendo conto Chris che non abbiamo parlato di cosa stai facendo tu oggi dimmi oltre music mirrors oltre tutto il resto allora due frasi faccio la speaker professionista e vado mi chiamano per andare che ne so a Londra in Spagna e faccio dei talk sulla comunicazione autentica alle quali sono veramente appassionata perché credo che al giorno d'oggi nelle famiglie nei rapporti con i bimbi tra genitori non c'è abbastanza c'è questa autenticità a veramente essere noi stessi e parlare dal cuore esprimere le emozioni per poi arrivare alla chiarezza e a superare le problematiche perché più spesso che mai è diventata nostra amica mamma mia sì perché con la mancanza di comunicazioni i problemi si aumentano e poi diventano più grandi di noi e poi esplodono in queste reazioni che non sono piacevoli insomma fai tante cose per aiutare tante persone e la mia più grande passione è proprio la comunicazione autentica quindi sono felice di fare quello che faccio non poteva non fare una puntata meravigliosa con le mie amiche dedico questa puntata a mia cara amica che la amo da morire ma devo dare una dedica particolare a mia amica Jessica suo marito e tutte le sue famiglie che mi hanno raccolto raccolto l'anno scorso un momento molto difficile della mia vita hai ragione scusami honey hai ragione scusa stavo giocando con raccolta e raccolta ma non stavi proprio bene no è vero infatti che mi hanno raccolto e raccolto come dice mia amica l'anno scorso che mi hanno aiutato a uscire da un periodo veramente difficile della mia vita e questo Jess è per te ti voglio bene anche noi ringraziamo Jess we love you Jess ciao a tutti e con questo chiudiamo grazie brava 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 brava